Lei ha fatto un po' di aiuto. E se hai un imbri, riba povera, riba grana, riba fredda, non hai un po' di alunione. La riunione sarà più corta, ma naturalmente, non c'è un argomento, non c'è un dibattito in questo caso e è una cosa che, non si usa 20 minuti solo per attacarmi, per attacare tutti i giovani, e sicuramente non si usa la riunione e non si usa la riunione. Non si usa la riunione a causa che non si usa la riunione, e sicuramente si vuoi il questione, ma non si usa per attacarmi, ma non si usa la riunione, ma non si usa la riunione. Non si usa la riunione. Criare un altro vibe che non si usa la riunione, mi pensa che dà riunione, la riunione, normalmente mi fa per un'ora, un'ora e meia, due ore, e secondo me in 30 minuti sta accadendo. Contestando e tocando la storia completa di lei. Però molto contento. Sobre la maniera che mi ha detto, che non mi ha detto, che non mi ha detto, e ora mi ha detto un'alternativa. Se il stakeholder mi ha detto, non mi ha detto, spero che gli uomini stanno camminando, e l'ultima alternativa per dimostrare che gli uomini stanno portando, è per creare un futuro cercano. Inoltre, una trezza di l'anno non sta accadendo. Posso escegliere che la legge di 2015 è una legge che non si passa nel 2020, è messo un cambio di energia che la persona può riuscire con la maggioranza. E non cambia nulla. E in questo momento è di accordo. Inoltre, una trezza di l'anno è esponente. E sicuramente ora da papi con questa cibretaria di Ombudsman, inoltre, non ci sono i bambini. E inoltre, inoltre, un istituto ribossomento che non si tratta di una persona che non si tratta di un'anno come politica, per mostrare il suo affamato, il suo imparzialità e il suo potere che ha. Il parlamentare non si tratta di un'anno, non si tratta di un'anno. È un'anno che, è un'anno che, è un'anno che è una legge di l'anno che e la signora López Trompa è una legge di l'anno, che non si tratta di un'anno che politica, ma non si tratta di un'anno che è un pensamento contro i cittadini, contro la cultura, ma non si tratta di un'anno, ma non si tratta di un'anno. sui amboma. In un'anno è stato raccontato come tutti i cittadini. che non hanno dato un CV per l'instanza, che hanno dato la comissione, che lo hanno avalato, e naturalmente abbiamo un profilo scherzo, con il Parlamento è chiaro, che non ci sono per cui ci sono, nel momento, con l'ancra, che non ci sono intenzioni, ma non ci sono capace con il quartiere, per trattare a metà un anno, per l'oggetto di un ombudsman. E poi abbiamo avuto una solicitud, e ci sono, che ci sono i profili scherzo, e poi abbiamo avuto la base, ma non ci sono capace, e ci sono i ragazzi di rado di avviso, e vorgetto di Alcuminerica Cama, e il presidente di Alcuminerica Cama, che non ci sono capace con il nostro consiglio, che ci sono 3 persone, e poi abbiamo avuto assombrato, così come deve essere qui in Spinoza, per so fare questo processo, che ci sono stati di Alcuminerica Cama. Alcuminerica Cama, ci sono 3 candidati, il numero 1 è il candidato, il più miglioro di noi, e ci sono stati sostenuti, come è il presidente di Alcuminerica Cama, e nel momento, ci sono 3 candidati, e naturalmente, ci sono molto più alti, naturalmente, non ci sono stati in un'instanza, o nel Paese, che non ci sono stati? Non ci sono stati politizzati, se non ci sono stati? Non ci sono stati di MْAPPROV, che non ci sono stati? Non ci sono stati con alcuni, ma dove ci sono stati, i loro, come si sono stati con gli altri, e ci sono stati con le mie, e sicuramente, la legge è quella, che è una buona, deve usare una buona legge, una legge con i propriomeni, che viene a tener un rinno durante un anno, a prevedere, a perfectione, e a tutto questo adesso, e bisogna essere a difusate, per fin.